è ritornato minecraft la musica di spiderman non ci sta proprio per niente vabbò, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di... non l'avrei mai detto, minecraft l'ho convinto io ragazzi purtroppo è per fortuna mi si è rotto il piccone allora, diciamo che io su minecraft non ero tanto brava, già dall'inizio adesso, che si sono giunte cose nuove da due anni mi sento molto meglio di prima si, tra l'altro perché adesso ci sono più cose troppe più cose vi ricordate il guider delle porte, spero? oddio no, adesso mi sono venuti ricordi del vietnam nel vietnam? mamma mia, cioè io non riuscivo a costruire la porta non mi ricordo se era la porta o un vetro no, 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 la porta, la porta sennò si chiamava il wither del vetro eh, non riuscivo a fare la porta, la porta nel frattempo lui aveva già... stavo combattendo un wither stavo combattendo il wither però la cosa bellissima è che io sopra la casa, mi ricordo, tenevo un command block me lo ricordo benissimo sì, ma questa cosa non è un po' piccolina, sai? vabbè, per ora è una stanza, eh io ci metterò 30 anni e sto scalando una pietra con delle mani, cosa impossibile nella vita reale distrugge della pietra con le mani è molto impossibile anche combattere un mostro con le mani è anche questo no, vabbè un mostro con le mani non è tanto impossibile magari lo strangoli, che ne sai e mi hai fatto così non mostro perché? oddio, che paura ma c'è spigliato paurissima ma qui si scatta, ragazzi no, 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 tanto no no, è speditore ok L2 qual è L2? qual è L2? eh punto qual è L2? non lo sai qual è L2? sì però mi hai fatto male in Cina mi sono fatta male il mio poverone in Cina il mio poverone in Cina è morto io scendo in cavern poi stico con me qua avremmo bisogno di dei letti però purtroppo siamo spawnati nella giungla e quindi nella giungla non ci sono peccone almeno per i pochi ho una spada di pelle che bella che poi scusa noi craftiamo le armature di pelle io dico perché non di legno hai visto l'armatura di legno tu? sì io l'ho vista Final Fantasy Nation 4 eh ma questo è il mio materiale sono stato fortunatissimo trovato una caverna il materiale nuovo perché ho piazzato due sorce no 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 non lo rompere così forse serve aspetta via via aspetta lo prendo tutto prima che di vedere cos'è ma quante c'è sta? eh tanto vediamo cos'è 19 pezzi di rame grezzo è rame? ah qua c'è pure del ferro ragazzi c'è solamente rame grezzo rame grezzo rame grezzo stiamo scherzando? ok prendiamo un po' di tecnologie scusate vabbè il rame grezzo tecnicamente esiste però sì però certo ma quando si trova nelle caverne quanto? sì il rame si trova nelle caverne le viniere le viniere pure sì comunque c'è tantissimo rame veramente tanto perché c'è tanto rame qua? carbona ah giusto lo puoi scattare oh quello? cos'è sto coso? ah non è una ramea della monse stabile e non so come faccio ce l'hai del legno? le viniere le viniere le viniere si ce l'ho no non ce l'ho e allora dai risaliamo e andiamo a prendere un po' di legna qual'è il legno? eh dobbiamo fare altre torce che poi con tutto sto carbone ora potremmo fare tante torce oh purtroppo mi si sta per scaricare il piccone per romper il picco l'unico piccolo problema è che io non so più di lui tanto non è cambiato niente da due anni fa vabbè andiamo marino riposiziona funghi ecco quello che faccio cioè sono stato talmente fortunato da trovare una caverna dove l'avete uscita? eccola vieni ok beh più di 80 sicuro ne ho 92 che volete? vieni vieni sei un po' di mano su Maria dove sei? sono in miniera e dove è la miniera? in casa nostra e dove è la miniera? in miniera hai capito? si ok vedo la tua scritta del tuo nome è troppo bella ho capito non vado a scuola da oddio io non vado a scuola da mamma no sto scherzando le sto scherzando ragazzi sto scherzando vabbè tecnicamente sta a fare video lezioni è un po' di miniera no no ho passato gran parte dell'anno a scuola a deprivermi a piangere vabbè io ho fatto due settimane di video lezioni per la scuola il cagasottismo no vabbè andiamo alla strada del terrore dai la strada del terrore è chiusa la strada del lavoro pure la strada della paura è chiusa andiamo alla strada del cagasottaggio dove era la cagasottismo? boom pure questa è chiusa benissimo abbiamo trovato l'unica caverna che non serve a nulla è normale distruggire la pedra con un cucone? no mi fai prendere il ferro? ma io distruggo la pedra con dei cuconi dodici cuconi ok mi diverso molto con la fisica di minecraft no la fisica di minecraft è la cosa più strana che esista al mondo andiamo a spaccare roba con dei cuconi oddio che paura pensavi fave di cacao adesso spiegatemi come faccio a distruggere una pietra con delle fave di cacao ah no c'è anche lì sopra è vero la via la via della morte eh la via della morte andiamo nella via della morte scusami ma perchè in tutto no aspetta 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 perchè in tutto questo non c'è manco un mostro? siamo difficile no piccone tipo poi si scopre che in difficile c'è un mostro con il nostro ma io con cosa distruggo il mostro con il cocomero vieni qua il mostro ti uccido con il cocomero andiamo con il cocomero eeeh vabbè eeeh ciao eeeh ciao ragno ciao buongiorno no ma io ho visto una cosa troppo brutta cos'è visto? ha ammazzato degli squid no ho provato di squid che è sta roba? sacca di inchiostro brillante avevi detto perchè non l'avevo avuto tanto casca si ma così mi sembra che è giocato no vabbè c'è troppo strade marie qua eh no non scendrei nella cascata dell'oblio ancora no almeno ancora no poi vediamo quando si è saliamo nella scala dai dell'oblio come questa? no non sono nella scala no vabbè ma quanta roba no vabbè dai oh ma qua c'è della luce vedo la luce vabbè siamo salvi no che salvi dobbiamo andare distruggo la medicina quando ciò ma potrebbe servirci non sei tutto non sei tutto attenzione questo è un canale family friendly vi invitiamo a scrivere nei commenti parolacce perchè se no vi manderò mamma mamma satana a casa 2.0 in modo tale da prendervi a cerfoni eppure durante la notte ma da dove l'hai presa il canale? ma da dove l'hai presa il canale? non ne ho la minima idea andiamo comunque le caverne sono giganti ragno di mela ragno di me ah hai sei insultito e mangi il mio mano ma ora mi spingono i canali? nell'oblio no la stanza dell'oblio era tutta l'innovazione non ti ricordi ma come? ho? what? ma no vabbè allora sta torcia la riprendo passati qua dove? no abbiamo un po' che dolce salve ci cito con un seme no non volevo ci credere e te lo fai vedere qui e e finisce qua intanto prendo altro rama che non so a che serve ok adesso scendiamo per la cascata dell'oblio dici che è arrivato il momento della cascata dell'oblio? si andiamo tantara 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 e poi c'è pure altre strade oltre la cascata dell'oblio domanda ma la cascata dell'oblio dov'è? domanda segui il fiume segui il fiume wiii eccola eccola è qua? si cascata dell'oblio eh eh però qua andiamo bella in profondità oh eh no qua creeper do creeper do creeper no i creeper no io li odio quindi li sento il grado quattimo quattimo ma non puoi li mettere normale? nooo ah guarda almeno sono morto come sei? ah quello non lo è sto a dire ah che non lo è sto a dire Viene a due, mi devo dire. Oddio, che stai da chi è sta roba? No, lo scheletro, lo scheletro, lo scheletro, lo scheletro, lo scheletro, non mi piace. Non sei un bravo scheletro, ti devo dire. Ti prego, dimmi che mi rigeneri la vita. Dai. Sì, un po' alla volta. Cos'è sta musichetta molto orro? Non ho la minima idea. Ok, da due strade. No, basta, da due strade. Che è la scelta? Vita-morte! Vai, andiamo con quella della morte. No, aspetta, prima devo prendere questo ferro. Perché logicamente uno prima di morire prende il ferro. Eh, ma no, guarda. No! Il mio ferro! Grazie, devo arrivare anch'io. Non riesco a salire. Aspetta, prova, salta, salta, salta. Ok. Aspetta un attimo. Aspetta una serie della morte. Aspetta un bingo. Ti metto un troppo della vita. Sì, sono morti. Quando stai? Dove? Sì, sono lutto. Io scendo nell'obbligo e girarci, vediamo. No, no, no. Non scendere nell'obbligo. Ho ammazzato uno scheletro Ma tu dove sei? Non ti vedo il nome Oh, sei lì Ma tu sei venendo da me? Forse è questa la strada No, 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 ferma qua Ferma qua Ferma da dove? Perché io sto un po' nell'obbligo, secondo me Ok, nella luce stessa Io e te, ma lì ci siamo completamente divisi Io diciamo che questa via la vediamo Ho trovato dell'oro Intanto per dopo mi crea una grafting table In caso trovassi qualcosa di bello Gianfranco? No, Gianfranco no Perché no? Perché no? Sono franco, è cattivo Ti sta antipatico Un po' Che t'ha fatto? Non ho detto la ramea C'è? Lava Bisogna essere Sì, mi ho trovato dei diamanti No, sono della pillaggio Gianfranco, dove sei? Sono esattamente sotto di te No, dai, ma che panchia Non lo accetto Tipi? Oh, e chi è molto? 95 Oh, no, 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 ah Ah, bene Che caso fine, ti prego Che caso fine? Sennò questo mi ammazza Ti ho salvato la vita Con due di cuore Con due cuore Allora Non ci muoio qua Ma che? Magari se non finisci nella lava Ma che? Ci sono lucia? No, ma i lapislazuli Non li puoi prendere con I pugni Ti pugnisco Vieni Esploriamo Siamo molto vicini A livello diamante E io che faccio A livello diamante Mi gratso poi Eh, boh Io sto a scegliere strade qua Qua ci sono altre strade Però questa è chiusa Andiamo lì Andiamo lì Strada dell'inferno Qua è chiusa Che bel nome Sta caverna Cioè Me l'aspettavo Molto più piccolo Invece Abnorme E dobbiamo Ritornare indietro Dove stavamo prima Mero male che Dobbiamo lanciarci la casa E poi Ma ti immagini Una casa tutta qua dentro Se riusciamo ad esplorare tutta Forse in un futuro In un futuro molto lontano Molto lontano Riusciremo a farci una casa qua dentro Forse Forse Ovviamente Ogni volta Perché ogni volta che registriamo Arriva la persona di turno Che rovina il video Puoi uscire per favore Sì Mi sono avvisato Per avvisare Che fra 2-3 minuti Si dovete scendere Ok Però potevi avvisarci Il pulsante Dovete scendere Fra 2-3 minuti Va bene Scendiamo Io gli sparo Ci vado da sotto Una donna No aspetta Però Maria Fammi rifiandoli Qualsiasi cosa Che potrebbe essere Lontanamente Vicina Alla violenza Non deve essere Dettata Nei miei video E poi c'erano Quei video Quindi se vi sono Paracce Sono esistenti Ma adesso Non esistono più Non è male Ok Mi sono ripristinato Ma esiste un po' troppi Di quei video Ho troppi Ma adesso Smesso Quello è importante Poi c'è un po' d'oro Cioè Come se non fosse nulla Poi c'è un po' d'oro No L'oro è importantissimo Segniamocelo Dov'è Dov'è l'oro Qua Questa Sì 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 Qui è l'oro E allora Faccio Devo mettere Tutte le cose A cucinare Che stai a cucinare Ma io volevo sapere Come si fa Ah tutto Devo andare su tutto Ok Ma allora Questo cos'è Possiamo dire Fra me C'è un resto Per ametista Quella Però a me Dove la troviamo L'ametista Ehm Non so Forse è più sotto Dei diamanti Addirittura Che ne sai Probabilmente Ma io devo fare La fornace Questo video Verrà Di un'ora e mezza Nanna Beh Se ci speriamo A trovare gli amanti Giora a due Vabbè Non stiamo puntando gli amanti Io punto a loro Infatti ho messo a cucinare un po' di ferro Me ne bastano tre E poi tolgo Ma adesso stiamo puntando A trovare l'ametista Ma semmai l'ametista la troviamo dopo cena Di noi Ma adesso Proviamo a trovare gli amanti Eh ma gli amanti È più complicato E il video lo chiameremo Proviamo a cercare degli amanti Su Minecraft Di nuovo La fornace La crafting No la crafting però mi serve Devo correre Devo correre Vabbè dai Questo video lo tengo per me Veramente È ridicola sta cosa Vedete Scendere che si cena Eh Dai ci sono un'ottima Ok No 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 In realtà Lo dicevo per dire ragazzi Ovviamente Questo video lo pubblicherò Come tanti altri Però tagliano Sti facciano Non posso tagliarlo Perché purtroppo Il genio di Playstation Ha deciso Che non posso avere PS E coso Da come si chiama Scarfactory Perché non lo puoi avere Boh Ma prima ce l'avevi Prima Ma scusa Oro grezzo Ma sembrano patate E' vero Sembrano patate Questa è una nuova texture Vabbè Ritorniamo in superficie Sì Ci riusciamo Ciao Mettando per arrivare A questa nuova superficie Ehm Riuscire a vuole salire Vabbè Cosa ci aspetterà Più in alto andiamo Meglio è Cosa ci aspetterà Ci aspetterà Qualcosa di bello Qualcosa di brutto Qualcosa di brutto Ma si e no Comunque non sapremo Dove andare Intanto Aspetta che abilito il Aspetta Abilito il mantino inventario Così possiamo fare una cosa Dato che non riusciremo mai A trovare Cosa Attenti Attenti Quando io Ok Ci vediamo Ma lì Mentre io Ci vediamo Un uomo Che non mi accompagna Un uomo Ok Io come mi ammazzo Come mi ammazzo Come mi ammazzo Guarda lì Guarda lì Guarda lì Aspetta Sono so fujute Niente E come mi ammazzo Che città Che città Un uomo Rinasce Ok Se sono tornati Perso la superficie Magari Possiamo Sperfeggi Ok Ok Ritorniamo in casa Ma la cassa L'hai presa tutta? No No Che è la cassa Ho preso Tra tutto quello che potevo prendere Non so Non lo scegli Grazie Ok ragazzi Chi è arrivato a questo punto del video Volevo avvisare Che nel video Ho nascosto Una faccina Di una specie di demone Chi lo trova Beh Può scrivere qua sotto Il minuto in cui l'ha trovato Così io saprò Se l'avete trovato veramente Ma io Mi stavo riferendo Che nel suo brano Ma io non volevo dire Non lo pubblicare Sto video No Vabbè Lo pubblico lo stesso Perché comunque Non è niente di offensivo È ovvio Sto frenendo Mi stessa Non si va Appunto Però Infatti Infatti Lo pubblico Non c'è problema Se pubblicarlo Però Cioè adesso Per schiavo Le garelli C'ho un paio piccolo Cioè Ma io non lo stavo Ma dove Dove sarete In casa Ti teleporto Ti teleporto Ti Vabbè Ragazzi Noi ci fermiamo qui Al prossimo video Che dire Ciao ragazzi